Fare imprese è difficile in provincia di Foggia, non solo per imprese femminili. C'è in questi giorni, ieri, la notizia di una imprenditrice che ha una pizzeria a Foggia che dopo aver denunciato ha subito la ritorsione rispetto a questo atto. Noi oggi vorremmo anche annunciare il sostegno da parte del Cofi di Commercio e della BCC a questa imprenditrice perché visto che spesso diciamo che la denuncia è l'unica arma contro le estorsioni poi chi denuncia deve essere tutelato, protetto innanzitutto dalle forze dell'ordine ma anche dal sistema imprenditoriale. Senz'altro le forze dell'ordine staranno facendo il loro corso e quindi noi non abbiamo né dubbi e confidiamo nelle forze dell'ordine che facciano il loro lavoro. Dal nostro canto noi immediatamente sosteniamo queste imprenditrici, gli abbiamo fatto subito un'apertura di credito di 15.000 euro con la BCC di San Giovanni da Roma e la Confidi con Commercio Puglia quindi sosteniamo questa operazione subito e immediatamente dando questa linea di credito a queste imprenditrici per continuare a lavorare.